idea web con marco giraudo direttore sportivo del piazza stiamo a celebrare la promozione del piazza in prima categoria 120 minuti probabilmente di agonia però preludio della fine più bella assolutamente ci ho messo alcuni secondi per realizzare che era successo davvero perché lo aspettavamo già dallo scorso anno ci siamo avanti vicini giorno fa è vero poi queste pari decino gli episodi però sicuramente sabigno io penso che per il percorso fatto in questi due anni il piazza meriti di tentare questa avventura in prima categoria ecco hai parlato già anche dell'avventura dello scorso anno probabilmente un finale un esito difficile da digerire difficilissimo ripartire siamo arrivati due anni di fila secondi che credo sia una cosa piuttosto difficile da fare però siamo stati bravi secondo me quest'anno i ragazzi a non mollare affrontare poi i finali stagioni con lo spirito giusto e oggi ci godiamo la festa grazie grazie